se invece lanciano gli oggetti a casa, alzano le mani, ci picchiano e non sono tanto grandi diciamo che questa cosa è una cosa che i bambini iniziano a fare da piccoli loro non hanno ancora la capacità ovviamente, anche se magari a noi piacerebbe di dirci tranquilla ti dico solo che sono in crisi siediti, siediti sul divano serena, tranquilla, ti ho preparato la tisana ti devo dire che sono incavolato nero, avrei voglia di spaccare tutto in questa casa perché non stai mai con me, ho bisogno di stare più tempo con te ti sento nervosa, non so perché sei nervosa, ho paura di essere io responsabile mia sorella la odio, vorrei farla fuori e non posso farla fuori non hanno la capacità ovviamente di dircelo perché sono ancora troppo piccoli cosa fanno? Esprimono fisicamente, esprimono piangendo, esprimono urlando esprimono facendo quello che noi chiamiamo capricci che non sono capricci esprimono anche lanciando le cose, la prima cosa che prendono la lanciano perché? Perché non essendo ancora grandi e in grado di razionalizzare come noi cioè sento che sto per esplodere, mi fermo, mi ascolto, mi parlo, mi chiedo come mai sto per esplodere cerco di accogliermi, cerco di farmi un attimo le coccole, trovo una soluzione e mi gestisco il mio bagaglio emotivo per non esplodere spesso non siamo nemmeno capaci di farlo noi, figuriamoci un bambino piccolo i bambini cosa sentono? I bambini sentono un tumulto dentro una roba dentro che li ha fatti arrabbiare, li ha impauriti assorbono da noi e la pentola a pressione diventa sempre più sotto pressione questa roba sale, 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 sale e spaccano e tirano oppure davanti a un nostro no, magari detto in maniera un po' brusca loro non riescono a fermarsi e a dirci perché mi stai dicendo di no, guarda che io vorrei fare quella cosa per questo motivo, non hanno nemmeno ancora una capacità di dialogo così fine allora ce lo fanno capire con il comportamento con la rabbia, sfogandosi in questo modo non è che stanno facendo i maleducati è solo che hanno bisogno da un lato di esprimersi, di dirci quello che sta succedendo e l'unico modo che sanno usare hanno bisogno piano piano nel tempo di imparare un'alternativa di assorbire un'alternativa, di avere il nostro esempio allora in quei casi che cosa possiamo fare? spiegare serve a poco prima dobbiamo sicuramente intervenire con fermezza cioè se hanno un oggetto pericoloso in mano, se stanno spaccando qualcosa non è che dobbiamo aspettare che buchino la porta arriviamo e lo fermiamo che sia tirarlo indietro per allontanarlo dall'oggetto che sia tenergli le braccia in maniera sicura, in maniera ferma un conto è prendere con fermezza, non essere arrabbiati tenere e dire amore mannaggia cosa è successo, sei arrabbiatissima questo non si può lanciare e magari lui si sta sbraitando riuscita ad abbracciarlo o a tenerlo perché non si faccia male un conto è prenderlo mentre dentro noi siamo arrabbiati stringere e dire basta, non devi fare così basta, quante volte ti devi non tirare quella roba si rompe, ti fai male ma non vedi che ti fai male sono due cose diverse possiamo sempre fermarlo fisicamente però nel secondo modo si spaventa, non si sente capito e ha un po' paura della nostra reazione nel primo caso magari si ribellerà ma noi siamo sicuri, siamo fermi continuiamo a tenerlo, siamo tranquilli lui se deve sfogarsi ancora esplodere, magari esplode oppure si calma subito e poi a questa età è difficile che magari ci dicano che cos'hanno dobbiamo diventare un po' allenati sulle nostre capacità di osservazione come se fossimo un po' dei piccoli Sherlock Holmes affinare un po' il nostro intuito e dire allora quando fa così si è arrabbiato con la sorella è stanco ha fame si sta annoiando non sono stata con lui è già due volte che mi gira intorno io già due o tre volte che gli dico che non ho tempo io oggi sono nervosa ho i nervi a mille che stanno saltando eccolo qua me lo aspetto anche se magari a parole tutto non capirà non gli arriva il nostro discorso il nostro dialogo ma il cuore gli arriva quello che noi vogliamo dirgli gli arriva un bambino sente se si sente capito se noi gli diciamo ma anche a un bambino di 17 mesi o quello che è gli diciamo amore mannaggia la mamma oggi non è stato con te è quel linguaggio è quel linguaggio adulto bambino genitore figlio mamma bimbo che passa i bambini sentono che abbiamo capito sentono che li stiamo ascoltando non li stiamo rimproverando e allora poi risolvo piangerà 10 minuti si fermerà subito piangerà 20 minuti all'inizio non è questo importante che è importante che possiamo essere fermi a dire questa cosa non si fa ma capisco perché l'hai fatta te lo dico te lo dico e troviamo una soluzione ti trovo una soluzione faccio una cosa per aiutarti all'inizio lo dovremmo fare un centinaio di volte 50 volte non so quanto cioè finché non si abitua piano piano a chiamarvi non dover per forza esplodere lanciando cose o mordendo o picchiando e anche grazie al fatto che noi riusciamo ad arrivare un po' in anticipo cioè intuire qual è la difficoltà a volte magari a voi sarà già anche capitato no? li vedete che sono stanchi e avrete detto un momento se non lo porto a dormire tra dieci minuti qua esplode il maremoto perché ha già cominciato ha cominciato a fare un po' di lagna è già andato ha tirato due volte un calcio a sua sorella è già andata lì gli ha fatto un dispetto lo vedo dagli occhi è stanco se adesso non lo porto esplode poi fino a mezzanotte non riesco a farlo dormire perché sarà una crisi dietro l'altra ecco è una cosa di questo tipo di questo genere ancora di più con la sorella questo sui fratelli e le sorelle fratelli più grandi più piccoli lo dico sempre anche se può sembrare la cosa più sbagliata da fare in verità ormai vado sul sicuro quando i vostri due figli litigano a volte capita anche che siano i più piccoli che ce l'hanno con i più grandi la maggior parte delle volte sono i più grandi che ce l'hanno con i piccoli che li vedono un po' come degli intrusi noi questa roba la chiamiamo gelosia in verità spesso i primogeniti si sentono un po' espropriati del loro territorio e non è che sono egoisti il loro territorio ma questo territorio per i nostri figli è fatto dell'amore di mamma e papà delle mie sicurezze finché c'ero solo io avevo tutto l'amore tutte le attenzioni per me non le attenzioni da viziato le attenzioni quelle che mi servono per diventare grande adesso che è arrivato un altro un'altra e poi un altro ancora io questo terreno d'amore si riduce deve fare diviso due deve fare diviso tre e il tempo per me e poi perché un altro io forse non andavo bene io forse non sono bastato allora lei è meglio di me certo che io sono arrabbiato con lei se tutte le volte che la guardo penso che lei è migliore di me è un fattore naturale i bambini vivono questo non possiamo spiegargli di non farlo non possiamo chiedergli di non farlo la cosa che possiamo fare è dimostrare loro attraverso la relazione e la qualità del tempo che passiamo con loro che non è così a volte non basta neanche dire io ti voglio bene vi voglio bene allo stesso modo ho bisogno che me lo fai vedere nella pratica ti stai alzando per andare a cambiare lei per andare a cambiarle il pannolino io sono qua che gioco un conto è dirmi ma lo so io voglio bene anche a te un altro conto è se ti ricordi di me mi guardi e mi dici amore io vado di là a cambiarle il pannolino ma non voglio che tu stai qua da solo vieni anche tu di là con me con i giochi oppure aspetta sei qua che stai giocando bene tranquillo vado a prendere il cambio e lo porto qua così la cambio qui e stiamo tutti e tre insieme e non vado di là perché voglio continuare a vederti giocare mentre stai costruendo quella macchinina fantastica o imbraccio tua sorella magari mi siedo mi siedo perché imbraccio tutti e due non riesco a tenervi mi siedo posso sedermi e ti dico vuoi venire imbraccio anche tu? guarda che c'è lo spazio vieni imbraccio anche tu certo che posso prendere anche te magari se non lo fate ve lo chiedono e si arrabbiano perché non lo fate se lo fate hanno la certezza di dire ah allora ti sei ricordata anche di me bravissima allora sì che mi vuoi bene no no continuo a giocare non ho bisogno che prendi imbraccio anche me hanno bisogno di conferme nella pratica quando poi litigano perché capiterà ancora che si faranno i dispetti e che magari il primo andrà lì e vorrà rovinare le uova nel paniere alla più piccola al più piccolo perché dico sempre di intervenire e di non sgridare nessuno di non cercare il colpevole perché cercare il colpevole non serve perché spesso il colpevole cioè quello che ha iniziato è il più ferito dei due perché è quello che a monte si è sentito più minacciato e allora uno piange l'altro ha colpito io vado da tutte e due mi avvicino quella che piange devo consolarla ma all'altro glielo chiedo mamma mia amore per tirarle così forte i capelli deve avertela fatta grossa eh mannaggia sta sorellina che stava proprio giocando lì dove volevi giocare tu e lei si è messa in mezzo lo so che ogni tanto ti dà fastidio eh e non la sopporti tanto cioè che senso a sgridare noi adulti perché mangiamo troppi dolci se il vero problema è che compensiamo con i dolci un bisogno affettivo o stanchezza o frustrazione non sarebbe meglio qualcuno che ci aiuti a risolvere questa frustrazione dato che magari i dolci fanno male per i bambini è uguale dato che non si picchia e ci sono altri modi per reagire da imparare nel tempo non serve che io ti rimproveri hai bisogno di vedere come si fa e allora ti faccio vedere come si fa accolgo tutti e due non ti colpevolizzo io so qual è il problema quindi a monte ci lavorerò dandoti del tempo di qualità dandoti quello che ti serve e poi risolvo se il problema era che lei era dove volevi giocare tu vedo se riesco a spostare lei se noi intanto troviamo un'alternativa io e te cioè medio e vedo la soluzione vedo che cosa possiamo fare per risolvere se si abitua che voi non lo state più rimproverando non si sente più sgridato si sente capito dopo un po' di volte che fate così che è la certezza che è avvenuto un clac un cambiamento a quel punto potete dirglielo vedi quando succede prima di arrabbiarti vieni da me quando senti che comincia a venirti il nervoso vieni da mamma vieni da papà me lo dici e io risolvo arrivo prima che scoppino le scintille non c'è bisogno basta che vieni da me e me lo dici inizieranno a venirvi a chiamare perché hanno capito che non siete un pericolo ma siete l'aiutante magico siete l'aiuto e allora vengo a dirtelo inizio a venirtelo a dire e poi man mano che andrò avanti negli anni diventando grande imparerò a fare con me quello che tu hai fatto con me quindi anche io farò un bel respiro mi calmerò inizierò a parlare con me stesso e a trovare una soluzione avviene con gli anni e questo passaggio non avviene subito però si possono mettere le basi già anche soltanto per non avere ogni tre per due un litigio esplosivo che non sono